buongiorno ragazze oggi vi faccio vedere il tutorial di due bordini due bordini che farò nel giro di pochi giorni in due copertine diverse la prima veramente l'ho finita ed è quella che vedete anche se ho nascosto la copertina perché poi la farò vedere alla fine del nostro lavoro di gruppo e vi faccio vedere che uno dei due l'ho fatto che esattamente è questo e l'altro è questo da lontano sembrano uguali c'è poca differenza sono molto ma molto carini questi due bordi io li farò per le copertine ma vi assicuro che potete utilizzarli anche per fare una rifinitura di un collo 1 e 2 adesso li faremo insieme in macchina eccoci in macchina ragazzi adesso il bordo io lo faccio tinta su tinta come vedete ho messo otto aghi al lavoro potete fare un po di scarto volendo e poi cominciate il filato per il bordo e poi alla fine lo chiudete anche appunto invisibile perché si può fare benissimo otto aghi dico perché io l'ho fatto con otto aghi ma gli aghi sono a vostra discrezione si può fare con meno aghi o con più aghi tinta su tinta come quando faccio io questi lavori la il rovescio deve essere dalla parte vostra ok io faccio la prova su un campioncino di punto legaccio ma potrei farla su qualsiasi cosa questo bordo ripeto è carino per rifinire una copertina ma è carino anche per rifinire un collo allora io sto lavorando cinque fili di 247 è un'attenzione circa 7 mi sta benissimo voi regolate l'attenzione come vi piace e andiamo avanti il pulsone che serve per questo bordo è questo il 2 a 3 carrello a destra e iniziamo a fare il bordo come sempre quando io faccio questi bordi nelle copertine non inizio mai all'angolo mai mi allontano un po e comincio a fare il bordo punzonata da due dalla parte sinistra punzone da tre a parte destra del bordo aumento un ago ok lago che rimane vuoto lo metto al lavoro e mi faccio due passate di passato 1 e 2 subito funzione da tre chiudo tre aghi io gli aghi li lascio sempre fuori perché mi scarica meglio rasata il giro è finito qua è tutto qui il bordo adesso ricominciamo da capo come quasi tutti i bordi che faccio io man mano che lavoro mi sposto verso sinistra della macchina perciò iniziati a fare il bordo magari dalla parte sinistra punzonata da due il punto è qua io mi allontano un po altrimenti poi il bordo viene molto ma molto stretto e non è bello mi allontano circa un centimetro punzone metto due aghi al lavoro sulla parte sinistra punzone da tre aumento un ago verso destra lago vuoto lo metto al lavoro due passate dirasato subito punzone da tre chiudo tre aghi il giro è finito se noi contiamo abbiamo sempre 2468 aghi come quando abbiamo iniziato andiamo avanti funzionata da due mi allontano circa un centimetro poi ovviamente questa è sempre facoltativa voi dovete fare sempre le prove e così sapete poi dopo quando fate il bordo quanto vi dovete allontanare io mi allontano quasi un centimetro e il bordo mi viene carino parte destra aumento un ago subito chiudo i tre aghi che ogni volta noi aumentiamo quando facciamo il giro il bordo è tutto qua funzione da due a sinistra funzione da tre a destra aumento un ago due passate diminuisco subito la i3 aghi due passate e facciamo un po insieme poi ve lo faccio vedere sta venendo fuori ovviamente tinta su tinta non fa effetto ma vi assicuro che dal vivo è molto carino vado avanti metto lago al lavoro mi chiudo subito i tre aghi io intanto sono andato avanti per un po ne facciamo ancora un po insieme vi faccio vedere tra qualche secondo che un po l'ho fatto vediamo se si vede secondo me è carino anche per un bordino per rifinire un collo funzionata da 22 aghi a sinistra con funzione da tre aumentiamo un ago verso destra lago vuoto lo rimettiamo al lavoro subito chiudiamo tre aghi due passate e andiamo avanti il bordo è questo semplice ragazzi quando arrivate all'angolo se lo usate come rifinitura di una copertina quando fate le due passate dopo che chiudete i tre aghi anziché fare due passate nell'angolo vi consiglio di farne almeno 6 8 in modo che il bordo poi nell'angolo gira meglio facciamo ancora un giro completo facciamo finta che questo è il bordo dell'angolo quando io faccio questa chiusura dei tre punti anziché fare due passate fatemi almeno 6 perché no anche 8 che il bordo vi gira meglio questo è il bordino emilie numero 1 adesso faremo il secondo siamo pronti per fare il secondo bordo sempre otto aghi in macchina sempre carrello a destra i punzoni che servono questa volta sono 2 1 a 3 è un punzone da 7 ridotto a 6 questo è quello che ho fatto poco fa per me è molto elegante adesso facciamo l'altro dall'altra parte e iniziamo stesso filo 5 fili di 247 tensione 7 anche questo bordo man mano che io lo faccio mi sposto il lavoro verso sinistra perciò partite da verso destra e anche questo lavoro iniziamo sempre con la parte del rovescio verso di voi questa volta punzone da 1 e facciamo una punzonata la mettiamo a sinistra punzone da 3 un aumento l'ago vuoto lo rimetto al lavoro 2 passate punzone da 1 mi allontano un po' questo decidete voi fate sempre le prove mi allontano io sempre quasi un centimetro punzone da 3 sulla destra aumento un ago ago vuoto al lavoro ancora una punzone da 1 punzonata a sinistra punzone da 3 aumento un ago a destra ago vuoto al lavoro è finito il giro punzone da 6 prendo 6 aghi e li a cavallo tutti verso sinistra chiudo gli aghi li tiro fuori faccio una passata e abbiamo 8 aghi come quando abbiamo iniziato 2 4 6 8 si ricomincia il giro punzone da 1 verso sinistra io mi allontano sempre un centimetro punzone da 3 a destra aumento un ago ago vuoto al lavoro tutto questo per tre volte questo è il terzo aumento punzone da 6 i 6 aghi di destra gli a cavallo a sinistra li tiro fuori così mi scarica meglio giro finito altra punzonata 1 mi allontano sempre un po' altrimenti viene troppo bombato e non è bello con un colore di contrasto cercate di stare attente quando fate la punzonata da 1 altrimenti si vede che non è dritta su tinta vabbè anche se si sbaglia un po' dai buchi mi accorgo che ho fatto tre aumenti perciò devo punzonare da 6 non posso sbagliare il bordo sta nascendo altro giro allontanatevi sempre un po' punzone da 3 aumento a destra giro finito punzone da 6 e come quando abbiamo iniziato abbiamo 8 aghi in macchina questo è un pelino più grande del primo io vado avanti io nel frattempo sono andato avanti un po' l'ho fatto guardate a me piace tantissimo questo è molto elegante faccio un altro giro completo punzonata da 1 allontano un po' almeno un centimetro dall'ultima punzonata si può fare anche in questo modo prima il destro e poi il sinistro non cambia niente non siete obbligati a seguire prima la punzonata a sinistra oppure a destra l'importante è che si fanno tutti e due altrimenti poi vieno a mancare qualche ago quando passate il carrello il filo dovete tirarlo è meglio altrimenti poi vi viene una solina molle e non è carino una volta che io ho i tre buchi so che ho aumentato tre aghi e devo fare la punzonata da 6 adesso mi faccio due giri due passate secondo me meglio dire due passate quando fate le due passate nell'angolo vi consiglio di farle anziché due sempre 8 in modo che il bordo nell'angolo della copertina vi gira meglio ragazze io mi fermo qui provatelo è molto carino anche come rifinitura collo grazie al prossimo bordo